Nola, Torrifaro, una vecchia questione che ritorna a cessioni impropria al Comune di Pomigliano e azione giudiziaria attivata per il recupero. Rischi, danno erariale per l'ente. A Cassella Mare di Stabia, ancora una mattinata di protesta, gli impiegati delle Terme hanno bloccato la statale sorrentina. Blocco totale del traffico ad Angri, il comando vigili non coordina il traffico e i lavori in via Cervinia generano il blocco totale della circolazione. Per il progetto UNESCO della Festa dei Gigli, nominata responsabile Maria Grazia De Lucia, ex assessore e beni culturali. Porto Pulito, la Regione Campania lancia l'iniziativa in sinergia con la Capitaneria di Porto, la Guardia Costiera e il Lega Ambiente. Per il calcio, il Nola pareggia con la Torre e se spera ancora, la Turris vince a Caserta, la Cavese salva. Questi titoli, adesso una brevissima pausa. Ben trovati dalla nostra redazione. Dopo la richiesta di chiarimento della Corte dei Conti in merito alla cessione delle torri faro al comune di Pomigliano, l'ente Nolano corre a ripare, attiva un'azione giudiziaria per il recupero degli impianti trasferiti in maniera impropria nel 2008, concreto il rischio di danno erariale a carico di dirigenti, politici e funzionari. Il servizio. Ritorno ad essere attuale la questione delle torri faro dell'ex stadio Piazza Darby a Nola. È stata la Corte dei Conti a chiedere chiarimenti circa il trasferimento a Pomigliano d'Arco dei quattro piloni dell'intero apparato luci attualmente montati nello stadio Gobbato. Una vicenda che risale a più di 20 anni fa con una vertenza aperta tra l'imprenditore Vincenzo Bussone e il comune di Nola in merito all'indennizzo per la realizzazione dell'impianto avvenuta nel 1991. Il Tribunale di Nola con sentenza 1164 del 2003 condannò in contumacia l'ente al pagamento di 45 mila euro oltre agli interessi da calcolare dal 18 aprile del 1991 per un totale di oltre 80 mila euro. Dunque le torri faro rappresentavano un costo per l'ente e relativamente una proprietà di valore inserita a patrimonio comunale. Poi nel 2008 con la dismissione dello stadio a Piazza d'Armi per realizzare la mai realizzata cittadella della Carta Pesta comunicazioni scritte e contatti telefonici tra il sindaco di Nola Napolitano e quello di Pomigliano della Ratta avviarono l'iter per la svendita dei fari perché di offerta a basso costo si trattò ed il 27 luglio del 2008 una determina dirigenziale sancì la vendita per un importo di 2494 euro delle quattro torri faro complete di proiettori. La vicenda fu evidenziata dalla stampa e apparve chiara l'esistenza di un'anomalia di procedimento. L'8 ottobre la determina fu rettificata puntualizzando che il preventivo del 28 maggio era riferito solo alla struttura in ferro mentre per i proiettori il costo era stato fissato in 22.400 euro oltre IVA con l'esclusione del quadro elettrico. Appariva chiaro l'antieconomicità dell'operazione a danno del Comune Nolano che aveva sventuto un impianto funzionante a poco più di 25.000 euro a fronte di un pagamento di 80.000 effettuato 5 anni prima. Poi la dismissione dal patrimonio comunale doveva avvenire attraverso una delibera di giunta e conseguenzialmente in Consiglio Comunale. Anomalie che furono evidenziate con una delibera di Consiglio Comunale del 19 febbraio del 2009. Oggi la nota della Corte contabile che impone all'ente di Piazza Duomo chiarimenti con l'alto rischio che l'azione amministrativa del 2008 abbia prodotto un danno erariale per il Comune che si riverserà a carico di dirigenti, politici e funzionari. E lo scorso 18 aprile la giunta comunale ha disposto un'azione legale contro il Comune di Pomigliano volta al recupero delle torri faro perché le procedure adottate non hanno rispettato le normative di legge che regolano la cessione di beni tra pubbliche amministrazioni. A Carborara di Nola i carabinieri hanno arrestato per contrabbando di tabacchi lavorati esteri tre cittadini del Bangladesh residenti a Domicelle e a Palma Campania. I predetti sono stati notati presso il casello autostradale di Nola a bordo di un Fiat Doblo. In atteggiamento sospetto i militari hanno intimato l'alt per i controlli. Alla vista dei carabinieri hanno tentato la fuga venendo comunque bloccati dopo un breve inseguimento e sottoposti a perquisizione. Sono stati trovati in possesso di sette valigie contenenti complessivamente 351 stecche di sigarette estere di contrabbando per un peso totale di 93 kg. L'autovettura e i tabacchi sono stati sequestrati mentre gli arrestati sono in attesa del rito direttissimo. Ci spostiamo a Castellammare di Stabia. Ancora una mattinata di protesta, ancora una volta a gridare i lavoratori delle terme che hanno bloccato la statale sorrentina. A protestare anche gli ausiliari del traffico rimasti senza contratto. Agostino Ingenito. Ennesima protesta dei lavoratori delle terme che questa mattina sono scesi di nuovo in strada per manifestare le preoccupazioni per la mancata riapertura delle terme. Al corteo che è partito dalle antiche terme occupando nuovamente la statale sorrentina hanno preso parte anche gli ausiliari del traffico rimasti senza contratto le scorse settimane. Da Palazzo Farnese non arrivano risposte rassicuranti. Restano in grave difficoltà economiche, le società partecipate sinte e molti servizi e per i sindacati c'è il rischio di un aumento del disagio sociale che coinvolge ormai circa 100 famiglie. A Torre del Greco i carabinieri hanno arrestato per atti persecutori un 37enne del luogo già noto alle forze dell'ordine. L'uomo è stato bloccato mentre seguiva e minacciava l'ex compagna, una trentenne di Torre del Greco, la quale aveva già sporto denuncia nei confronti del 37enne per atti persecutori iniziati dal 7 aprile da quando è uscito dal carcere. L'ha restato in attesa del rito direttissimo. E andiamo ad Angri dove il traffico in tilt ha bloccato la città per l'intera mattinata. Il comando vigili non ha coordinato la viabilità alternativa a seguito dei lavori di riasfaltatura di via Cervinia, una situazione che ha reso impossibile ogni spostamento in auto nel centro città. Lavoro in corso e traffico in tilt è successo ad Angri dove le operazioni di rifacimento del manto stradale del primo tratto di via Cervinia hanno determinato gravi disagi alla circolazione con lunghe file di macchine costrette ad attese snervanti e percorsi alternativi improvvisati. Una mattinata da dimenticare con notevole imbarazzo per i vigili urbani che si sono ritrovati ad affrontare una situazione straordinaria senza che il comando avesse provveduto attraverso un'ordinanza a organizzare al meglio la viabilità per evitare ingorghi e malumori. Così non è stato e corso Vittorio Emanuele, piazza Annunziata e il reticolo di stradine tra via Fontanella e piazza Trivio si sono trasformati in lunghi serpentoni di indispettiti automobilisti costretti ad effettuare percorsi tortuosi per uscire dall'imbuto del traffico generato dalla troppa superficialità che ha bloccato per ora il centro città. Pullman in fila, disagi per studenti e pendolari costretti a ritardi inaspettati che si aggiungono alle difficoltà quotidiane legate al trasporto pubblico locale. Eppure i caschi bianchi si sono dimostrati sempre attenti nel gestire situazioni legate alla viabilità. Questa volta no e le conseguenze sono stati pesanti per la città. In provincia di Caserta, nei comuni di Sant'Arpino, Cesa e Teverola, prende il via il progetto Sostenere chi aiuta. Il progetto finanziato dalla regione Campania è costruito per dare sostegno psicologico e materiale a chi avvicina e assiste quotidianamente i cosiddetti car giver, familiari affetti da patologie progressivamente invalidanti come l'Alzheimer, la SLA e il morbo di Parkinson. L'intervento è finalizzato ad individuare, valutare e modificare situazioni di disagio familiare mediante il sostegno psicologico e materiale, la costituzione di gruppi di aiuto tra le persone che svolgono funzioni di car giver, l'organizzazione di incontri e seminari, l'informazione circa l'esistente di gruppi di volontariato già presenti sul territorio. Il sindaco Geremia Biancardi ha nominato la professoressa Maria Grazia De Lucia come rappresentante del Comune nella procedura per il riconoscimento UNESCO alla Festa dei Gigli. Gianni Amodeo. Conferita alla professoressa Maria Grazia De Lucia la nomina di rappresentante del Comune di Nola nel progetto di riconoscimento UNESCO per la Festa dei Gigli, a firmare l'atto di nomina il sindaco Geremia Biancardi. Una decisione che va nella direzione della continuità progettuale ed assunta da Biancardi d'intesa con l'attuale Assessore ai beni e alle attività culturali Cinzia Trinchese, subentrata proprio alla professoressa De Lucia nella rimodulazione di giunta varata nelle scorse settimane. Il progetto del riconoscimento UNESCO ha preso impulso nel 2006 ed è entrato nella fase finale tanto da essere stato presentato dallo Stato italiano come unica proposta per la selezione del 2013. Progetto di rete che coinvolge Viterbo, Sassari, Palmi Calabro e Nola appunto collegate dal filo conduttore ed unificante del folclore mediterraneo delle feste di cui sono protagoniste le grandi macchine a spalla. Testimonianze di autentico folclore e popolarità da salvaguardare e tutelare con l'inserimento nella lista del patrimonio culturale e materiale della umanità. De Lucia da Assessore ha seguito l'intero iter del progetto e la nomina che le è stata conferita costituisce apprezzamento per il lavoro svolto. E restando in tema da evidenziare che la festa dei gigli figurerà dal 16 al 19 maggio prossimo al Salone Internazionale del Libro che aprirà i battenti all'ingotto di Torino. Una presenza affidata a test e documenti che raccontano la festa eterna Nolana. A Pozzuoli i carabinieri della locale stazione hanno denunciato in stato di libertà per possesso ingiustificato di arnesi da scasso un 29enne, un 22enne ed un 18enne, tutti residenti a Napoli, Pianura e già noti alle forze dell'ordine. I tre giovani sono stati notati a bordo di una Fiat Panda con targa straniera in atteggiamento sospetto dai militari dell'arma che li hanno fermati per controlli e sottoposti a perquisizione. Sono stati trovati in possesso di due piedi di porco e di numerosi arnesi atti allo scasso che sono stati sequestrati. 8 ambiti portuali saranno primi ad essere interessati dall'operazione Porto Pulito che la Regione Campania ha programmato di attuare d'intesa con la Capitaneria di Porto, la Guardia Costiera e il Lega Ambiente. Il tutto in funzione della promozione dell'economia turistico balneare e della tutela delle coste. Vediamo. Porto Pulito è l'iniziativa che prevede per la prossima stagione balneare la pulizia degli specchi d'acqua e dei fondali dei porti di interesse regionale. Iniziativa che si innesta nel più ampio ed articolato progetto di tutela della fascia costiera in funzione della valorizzazione della risorsa mare. Una filiera di programmazione per la cui attuazione è impegnato l'assessorato all'ambiente di Palazzo Santa Lucia a supporto dell'economia turistico balneare. Porto Pulito si realizza sulla base della convenzione che la Regione Campania ha sottoscritto con la Capitaneria di Porto, grazie alla validità dell'iniziativa condivisa dall'ammiraglio Antonio Basile e dal comandante Rosario Meo. 8 gli ambiti portuali interessati nella immediatezza, tra i quali quelli di Pozzuoli, Procida, Chiaiolella, Agropoli e Amalfi. E i dettagli dell'operazione saranno definiti nell'incontro con i sindaci dei comuni interessati indetto per il 10 maggio a Palazzo Santa Lucia. A giugno gli interventi previsti con l'utilizzo anche dei battelli spazzamare. In questo quadro l'assessore Giovanni Romano ha annunciato l'avvio delle attività di monitoraggio e telerilevamento per prevenire e contrastare l'inquinamento delle acque marine. Attività sviluppate d'intesa con la Guardia Costiera e che rientrano nel progetto operativo di lega ambiente ricicla estate per la riduzione dei rifiuti e la differenziata sulle spiagge e nei centri turistico balneari. E passiamo al calcio. Il Nola ottiene un prezioso punto contro la Torres e continua a sperare nel gancio del treno play-out, ma soprattutto per non perderlo. Domenica prossima sarà impegnata contro il Sant'Elia. La Turris vince il derby di Caserta, la Cavese festeggia la salvezza. Il Nola rimedia un punto importante nella sfida con la capolista Torres che ottiene la promozione in Lega Pro. Una partita caratterizzata da otto reti con i bianconeri di casa, a siglare il punto del 4-4 finale nei minuti di recupero. Ora sarà determinante l'ultima gara con il retrocesso Santeria. Una vittoria garantirebbe la disputa dei play-out e quindi speranza di salvezza. Al pinto di Caserta vince la Turris, il derby delle delusioni e delle recriminazioni per i tanti punti persi, soprattutto per i corallini che hanno sbagliato il match point con i Sardi della Torres due domeniche fa. Decisivo dagli 11 metri Ciccio Vitale al 39esimo del secondo tempo. Nel girone I la Cavese fa festa, vince largamente ad Acireale e raggiunge la permanenza in categoria. Sette reti dei falchetti che hanno passeggiato sui resti dei siciliani già retrocessi. Per i metelliani va in archivio un anno tribolato ma che apre a nuove prospettive per il futuro. Ancora una sconfitta per il Savoia. I bianchi cedono il passo al Cosenza, lanciato nella rincorsa Speranza al Messina, avanti di tre punti. Domenica Silani impegnati in casa con il Ragusa e Peloritani con la retrocessa Nissa. A Messina è pronta già la grande festa. E questo è il nostro ultimo servizio. Il telegiornale termina qui. Grazie a tutti voi per averci seguito. Arrivederci. Raffinati dettagli che arredano il tuo mondo. Tufano Arredamenti. Qualità, ricercatezza, stile, design per arredare i tuoi spazi. Dal classico al moderno. Delle migliori case italiane. Da Tufano Arredamenti puoi visitare l'esclusivo showroom dedicato alle cucine Verloni. Da Tufano. Qualità dei servizi. Personale qualificato. Consulenza personalizzata. Trasporto e montaggio a regola d'arte. Assistenza post vendita. Fanno la differenza. Tufano Arredamenti. Piazzale Ferrovia. Saviano. www.tufanoarredamenti.it Per ogni arredamento completo un televisore LCD 32 pollici in omaggio.